Narcotizzava con una droga afrodisiaca una tredicenne per violentarla, estorcerle dei soldi e per avviarla la prostituzione. Un diciannovenne romeno è stato arrestato dai carabinieri a Marina di Camerota. Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania Nicola Marrone, che ha colto la richiesta del sostituto procuratore Alfredo Greco. Il giovane è responsabile di violenza sessuale aggravata, poiché commessa i danni di minore di età inferiore ai 14 anni e con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti, oltre che di estorsione continuata e di tentata riduzione in schiavitù, finalizzata la prostituzione minorile aggravata. Tutti gli episodi contestati sono avvenuti a Marina Frazione di Camerota negli ultimi 20 giorni. Secondo le indagini, il diciannovenne, per abusare della ragazzina, utilizzava una droga afrodisiaca abbastanza diffusa in Romania, la cantaride o cantaridina, una sostanza estratta dalla macinazione della cantaride o mosca spagnola, che provoca tra l'altro stordimento e paralisi muscolare temporanea. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno eseguito l'arresto del giovane, prelevato anche materiale biologico da vari indumenti per essere sottoposto agli esami di laboratorio dagli esperti della sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Salerno. Per gli inquirenti i comportamenti criminali, così come si sono delineati nel corso delle indagini, ricalcano purtroppo un iter abituale e terribile, contraddistinto dall'uso di sostanze narcotiche, finalizzato a commettere violenza carnale completa, spesso ai danni di vittime giovanissime. Dopo la violenza segue la minaccia di divulgare quanto accaduto, creando nella piccola vittima uno stato di incapacità a reagire. Nel corso della stessa operazione altre due persone, un uomo e una donna sempre di nazionalità romena, sono state denunciate.